Siamo arrivati alla fase conclusiva del nostro progetto, però è una fase conclusiva che prelude alla nuova partenza. Ha consolidato le capacità collaborative, ha consolidato la rete con i partner sia italiani che francesi, ha consolidato un buon rapporto con i nostri utenti, con le persone che hanno partecipato al progetto, molti stanno già lavorando e diversi stanno aprendo anche delle proprie attività. E per noi è importante anche che ci sia questa filosofia nuova di responsabilità sul prodotto, soprattutto sull'agroalimentare. Quindi abbiamo lavorato con i nostri ragazzi per valorizzare il senso di giustizia, di bellezza, di equità che ci deve essere in un prodotto. La semplicità, la trasparenza, speriamo che questo diventi una filosofia condivisa, che porti proprio il buono dell'Italia nel mondo, il bello dell'Italia nel mondo, ma anche il giusto dell'Italia nel mondo.